Facciamola finita con questa storia dei click, ok? Noi siamo partiti, se pensi, con i click, ma è già da un po' di tempo che siamo una cosa reale, mi sembra, no? Sì. E quindi, basta dire fenomeno web, fenomeno questo, perché noi siamo una grande famiglia, ma lo siamo a quattrotti, lo siamo dal vero, e qui si vede in questi eventi. Ma sai, grazie a te. Che parlano di click, ma poi ci sono persone reali, in cari addosso, come loro, che ci vengono a supportare ogni concerto, questa è una cosa più importante, basta un'altra storia. Ok, ora mi vogliono vedere andare fuori di testa, perché io questo pezzo era una scatrona. Meranti! Ma lo fa con la tanna, perché nessuno la mangia, con la proposte che fa, e il viso è monica, ma lo fa con la tanna, perché nessuno la mangia. Com'è? Era dentro alla musica E' una semplice vera Come i dolori dell'Africa Con la proposta che fa E' una crisatonica Ma non la fa con la calma Perché nessuno la mangia Come numeranti E' una semplice vera Come Era la semplice Ma non la fa con la calma C'è un'erangente Ma non è un'erangente, non è un'erangente C'è un'erangente Io non ho capo che sa come e andare tu Io ho poi la haluta tua E' un'erangente che mi è pure da Io non ho capo che la mamma sa come e andare tu Io ho poi la haluta tua E' un'erangente che mi è pure da Io ho poi la haluta tua Io non mi è erangente Ma non mi è un erangente Ma non mi è un eraangente Ma non mi è un erangente E' un'erangente che mi è terra Seguimi chiedi tuoi paracassi Oh oh oh